È importante dare ancora continuità e arrivata nonostante una gara di sofferenza, soprattutto alla fine? Sì, per noi l'importante è portare i tre punti a casa, poi come li portiamo non è importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, una squadra ben organizzata che, come tutte le altre, ha dato tutto fino alla fine. Però devo fare un applauso ai ragazzi perché hanno fatto una partita di grande sacrificio, anche giocata bene. Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro una squadra ben attrezzata. A Matteo non avevo dubbi sulle sue qualità e lo conosco da quando è bambino. Ha fatto un bel gol, ha fatto una grandissima partita, penso che è in assoluto il migliore in campo oggi. Però il merito di tutta la squadra è che ha portato a casa questi tre punti. A nessuno ci regalà nulla, anzi, al contrario. Tutti quanti cercheranno di fermare il Teramo e giusto così questo ci esalta ancora di più e noi dobbiamo continuare la nostra strada pensando soltanto a noi, poi vedremo che cosa succederà. Noi dobbiamo pensare a domenica contro il Fontanelle, poi ci preoccuperemo per la prossima. Il nostro cammino dipende soltanto da noi, poi gli altri se continueranno a vincere sempre, come ho sempre detto, gli faremo i complimenti, ma noi dobbiamo pensare a noi, non dobbiamo pensare alla Turris. Non posso non chiederti, sei sempre creduto all'arrivo di De Gidio, visto che un mese fa la fumata bianca non era arrivata. No, diciamo che non ho mai mollato la situazione e appena c'è stata la possibilità di chiudere la trattativa l'ho fatta, come si vuol dire, cotto e mangiato perché so che è un ragazzo appetito da tantissime squadre, non di queste categorie ed è un grande orgoglio, ma lo deve essere per la società, lo deve essere per la città, per la tifoseria e per tutti noi. Poi spero che lui ci possa dare una grande mano come ce la devono dare tutti. Come ha detto il mister, non bisogna mettere pressione sul ragazzo, ma il ragazzo sarà uno dei tanti che devono portare a ottenere un risultato importante qui quest'anno.